Si chiama zona PEP ma di fatto è una zona abbandonata della città. La protesta parte dai residenti che ieri abbiamo incontrato dopo innumerevoli segnalazioni. Regnano il degrado e la sporcizia, una volanga di rifiuti accantonati vicino ai bidoni della spazzatura. Non è una polemica o un'accusa, spiegano i residenti a Onda Tg, ma vogliamo solo lanciare un campanello d'allarme e una costatazione, invitiamo gli organi competenti a recarsi sul posto di persona per toccare con mano lo stato d'incuria. Alla trascuratezza e alla non curanza della zona si aggiunge anche lo stato di abbandono del famoso campetto di calcio del serpentone che il comune di Sulmona per motivi di sicurezza ha provveduto diligentemente a recintare. Nonostante la recinzione i bambini riescono ad entrarvi lo stesso, spiegano i cittadini, rischiando davvero di farsi male. I lavori sono stati affidati ad una ditta, ma non sono stati mai completati. Addirittura il campo è stato trasformato in un deposito di materiali e di rifiuti. Una situazione ormai divenuta intollerabile. La zona PEP, concludono, i residenti non può più essere una zona abbandonata.